Preghiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni. Dal Santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo la Vergine Maria di Loreto per tutti coloro che si affidano la sua materna intercessione, particolarmente ammalati, sopperenti, pellegrini associati al Santuario della Santa Casa e benefattori vivi e defunti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amén. L'Angelo del Signore portò l'annuncio a Maria e della concepì, concepì per opera dello Spirito Santo. Eccomi solo, la serva del Signore, si compia in me la Tua parola e il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la Tua grazia, oh Padre, Tu che nell'annuncio dell'Angelo ci hai rivelato l'incarnazione del Tuo Figlio, per la Sua passione e la Sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amén. Meditiamo i misteri della gioia. Primo mistero, contempliamo l'annuncio dell'Angelo a Maria. Padre Nostra qui è sinceri, santifici tu nome in Tum, adveni ad regnum Tum, fiat volontà Sua, sicur in cielo e in terra. Padre Nostra, un quotidiano da nobis todi, e dimite nobis debita nostra, sicur te nobis dimitimus debitorimus nostris, e ne nobis in ducas in tentazione, se per vivere la nostra mano. Amén. Maria, Regina della Pace, prega per noi, prega per noi. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, beneditia tui murieribus, et benedictus fruttus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc e ti nobis dimitimus nostris tui, amén. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui murieribus, et benedictus fruttus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc e ti nobis dimitimus nostris tui, amén. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedictus fruttus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc e ti nobis dimitimus nostris tui, amén. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui murieribus, et benedictus fruttus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc e ti nobis dimitimus nostris tui, amén. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui murieribus, et benedictus fruttus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc e ti nobis dimitimus nostris tui, amén. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedictus fruttus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nonc e ti nobis peccatoribus, nunc e ti nobis peccatoribus, ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui, murieribus, et benedictus fruttus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc e ti nobis peccatoribus, Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui, murieribus, et benedictus fruttus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc e ti nobis peccatoribus, nonc e ti nobis peccatoribus, ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui, murieribus, et benedictus fruttus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc e ti nobis peccatoribus, nonc e ti nobis peccatoribus, ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui, murieribus, et benedictus fruttus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc e ti nobis peccatoribus, nunc e ti nobis peccatoribus, gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli, ame, lodato sempre sia, il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria. Nel secondo mistero gioioso, contempliamo la visita di Maria alla cugina Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così intera. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Maria regina della pace, prega per noi, prega per noi. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetto fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetto fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetto fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetto fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetto fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetto fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Ave Maria, lodato sempre sia il Santissimo Nome di Gesù, Giuseppe Maria. Nel terzo mistero gioioso contempliamo la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così intera. Grazie oggi, nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Maria, regina della pace, prega per noi, prega per noi. Maria, regina della pace, prega per noi, 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 prega per noi. Maria, regina della pace, prega per noi, prega per noi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra volontà. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli, nei secoli. Grazie a tutti. Nel quarto mistero gioioso contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così intera. Darci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, cheia di grazia, ho signor è convosco. Bendita sois vós entre le donne e benedito è il frutto del vostro ventre, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, cheia di grazia, ho signor è convosco. Bendita sois vós entre le donne e benedito è il frutto del vostro ventre, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è il nome della nostra morte, amén. Ave Maria, cheia di graça, il Signore è convosco, bendita sois vós entre le donne, e bendito è il frutto del vostro ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è il nome della nostra morte, amén. Ave Maria, cheia di graça, il Signore è convosco, bendita sois vós entre le donne, e bendito è il frutto del vostro ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è il nome della nostra morte, amén. Ave Maria, cheia di graça, il Signore è convosco, bendita sois vós entre le donne, e bendito è il frutto del vostro ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è il nome della nostra morte, amén. Ave Maria, cheia di graça, il Signore è convosco, bendita sois vós entre le donne, e bendito è il frutto del vostro ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è il nome della nostra morte, amén. Ave Maria, cheia di graça, il Signore è convosco, bendita sois vós entre le donne, e bendito è il frutto del vostro ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è il nome della nostra morte, amén. Ave Maria, cheia di graça, il Signore è convosco, bendita sois vós entre le donne, e bendito è il frutto del vostro ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è il nome della nostra morte, amén. Ave Maria, cheia di graça, il Signore è convosco, bendita sois vós entre le donne, e bendito è il frutto del vostro ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è il nome della nostra morte, amén. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli, amén. Nel quinto mistero gioioso contempliamo il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così intera. Daci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti ai nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male, amén. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. Zdrowaś Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è il nome della nostra morte, amén. Zdrowaś Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, amén. Zdrowaś Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, amén. Zdrowaś Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, amén. Zdrowaś Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, amén. Zdrowaś Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è il nome della nostra morte, amén. Zdrowaś Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, amén. Zdrowaś Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, amén. Zdrowaś Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, amén. Zdrowaś Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, amén. Zdrowaś Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, amén. Zdrowaś Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, amén. Zdrowaś Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, amén. Zdrowaś Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, amén. Grazie per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'ho dato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo noi, Gesù, i figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi con gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore Pietà, Cristo Pietà, Signore Pietà, Signore Pietà, Signore Pietà, Santa Maria, prega per noi, Santa Madre di Dio, prega per noi, Santa Vergine delle Vergine, prega per noi, Madre di Cristo, prega per noi, Madre della Chiesa, prega per noi, Madre di misericordia, Madre della divina grazia, Madre della speranza, Madre purissima, Madre castissima, Madre sempre vergine, Madre immacolata, Madre degna d'amore, Madre ammirabile, Madre del buon consiglio, Madre del creatore. Madre del salvatore, Vergine prudente, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio di perfezione, sede della sapienza, fonte della nostra gioia, Prega per noi, Tempio dello Spirito Santo, Prega per noi, Tabernacolo dell'eterna gloria, Prega per noi, Dimora consacrata a Dio, Prega per noi, Rosa mestica, Prega per noi, Torre della santa città di Davide, Prega per noi, Fortezza inespugnabile, Prega per noi, Santuario della divina presenza, Prega per noi, Arca dell'Alleanza, Prega per noi, Porta del cielo, Prega per noi, Stella del mattino, Prega per noi, Salute degli infermi, Prega per noi, Rifugio dei peccatori, Prega per noi, Conforto dei migranti, Prega per noi, Consolatrice degli afflitti, Prega per noi, Aiuto dei cristiani, Prega per noi, Reggina degli angeli, Prega per noi, Reggina dei patriarchi, Prega per noi, Reggina dei profeti, Prega per noi, Reggina degli apostoli, Prega per noi, Reggina dei martiri, Prega per noi, Reggina dei confessori della fede, Prega per noi, Reggina delle vergine, Prega per noi, Reggina di tutti i santi, Prega per noi, Reggina concepita senza peccato, Prega per noi, Reggina assunta in cielo, Prega per noi, Reggina del rosario, prega per noi, regina della famiglia, regina della pace, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci Signore, ascoltaci Signore, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo insieme la priera alla pagina 14. Insieme. O Maria, pellegrina di bontà, tu hai camminato accanto a Gesù e sei stata gioiosamente madre e serva del progetto di Dio. Affidiamo a te la nostra vita con la fiducia serena che attira ogni figlio tra le braccia della sua madre. Vigila, o Maria, sulla crescita di Cristo in noi e nelle nostre famiglie. Ogni nostra casa sia una santa casa e ogni nostra famiglia sia una santa famiglia abitata dalla pace e dall'amore. Il sì che ti rete, madre di Dio e di tutti i figli di Dio, risuoni in tutti noi. Insegnaci il tuo sì, o Maria, per amare il Cristo, restando sulla terra, per stare nel mondo senza patenelli, per vivere operosi e sereni nell'attesa di arrivare a casa con te. Sotto la Tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Per tutti i fedeli defunti l'eterno riposo, Donalo, Signore, esplenda essi la luce perpetua, riposino in pace. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Su tutti voi e su tutte le vostre famiglie e le vostre case, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore e rendiamo grazie a Dio. Mentre trascorre la vita, solo Tu non sei mai, Santa Maria del Cammino sempre sarà con Te. Vieni, oh Madre, in mezzo a noi, vieni, Maria, qua giù. Cammineremo insieme a Te verso la libertà. Vieni, oh Madre, in mezzo a noi, vieni, Maria, qua giù. Cammineremo insieme a Te verso la libertà. Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la Tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della Tua fede, della Tua preghiera e del Tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana. Grazie a tutti.